Buongiorno a tutti, in questa presentazione, in questi 20 minuti vi parlerò di lubrificazione e anche di dissipazione del calore, che sono due degli argomenti principali relativi al comportamento dell'olio all'interno delle trasmissioni. Parlerò di trasmissioni ma anche di cuscinetti, cioè tutti gli organi che all'interno di una trasmissione devono essere lubrificati e il cui calore, la cui quantità di energia, di potenza che viene generata per attrito e altri fenomeni, deve essere dissipata. Parliamo di simulazione fluidodinamica per andare a predire il comportamento dell'olio all'interno della trasmissione, all'interno di un'intera trasmissione o all'interno di un singolo componente come può essere un cuscinetto che vedete qua e parliamo di software di simulazione fluidodinamica basata a particelle, quindi affiancati ai metodi tradizionali che probabilmente conoscete che sono i metodi basati su una griglia di calcolo, esistono e si stanno sempre più diffondendo metodi basati su la discretizzazione dell'olio o del fluido in genere mediante particelle. Questi metodi sono molto utili soprattutto quando si ha a che fare con geometrie complesse come quella che si ha in una trasmissione in un cuscinetto dove ci sono sia dettagli molto complessi come il meshing tra i denti piuttosto che la geometria dei cuscinetti, ma soprattutto dove ci sono organi in movimento, quindi in cui la geometria oltre ad essere complessa è anche una geometria variabile nel tempo. I metodi tradizionali fanno fatica, noi stessi siamo utilizzatori e promotori di ANSYS CFD che ha comunque delle difficoltà nell'approcciare questa tipologia di simulazione e quindi alcuni anni fa abbiamo utilizzato, abbiamo iniziato ad utilizzare questi metodi a particelle. I metodi a particelle risolvono le stesse equazioni dei metodi CFD tradizionali, quindi le equazioni di Navier-Stokes, del moto di un fluido, ma lo fanno attraverso un metodo lagrangiano, quindi vanno a tracciare il moto delle particelle di olio, del volume di olio appunto discretizzato mediante particelle. È un metodo principalmente applicabile ai flussi a superficie libera e ai getti liquidi, che sono esattamente quello che avviene all'interno di una trasmissione. Qui vedete anche la simulazione di grasso all'interno di un cuscinetto perché questi metodi consentono sia di risolvere scale differenti, appunto un'intera trasmissione piuttosto che il singolo cuscinetto, sia di simulare olio, come in questo caso, ma anche grasso, quindi materiale semisolido o particolarmente viscoso. Il metodo che si chiama Moving Particle Simulation nasce all'Università di Tokyo, ormai 23 anni fa, quindi non è un metodo nuovo, non è un metodo recente, ed è stato trasformato in un software commerciale, quindi comunemente utilizzato dalle aziende, da Prometec Software, che dopo aver iniziato lo sviluppo all'Università di Tokyo, l'ha reso appunto un software commerciale. Se volessimo fare un paragone tra i metodi a volumi finiti, che sono i metodi di CFD classica, contro i metodi MPS, Moving Particle Simulation, la griglia di calcolo che costruite normalmente con i metodi a volumi finiti e il metodo euleriano che vengono utilizzati per risolvere l'equazione di Navier-Stokes con i volumi finiti, si traducono in una particella, quindi ogni particella corrisponde ad un elemento di mesh, rappresenta quindi un elemento di fluido, che interagisce con le particelle circostanti scambiando quantità di moto, energia, pressione, tutte le grandezze classiche della fluidodinamica, del moto di un fluido. Il metodo è un metodo lagrangiano, il che significa che ogni particella viene tracciata nella sua traiettoria e sulla sua traiettoria vengono calcolate tutte le grandezze che risolvereste anche con un metodo tradizionale, quindi vengono calcolate la pressione, la velocità, le varie componenti di velocità, le grandezze turbolente e anche la temperatura e volendo anche il coefficiente di scambio termico associato alle particelle vicino alle pareti. Vi faccio, sono andato veloce sull'introduzione, se avete domande mi potete contattare e vi posso anche fornire materiale scientifico per scientifici sul metodo. Quello che mi preme fare è darvi una panoramica di quelle che sono le applicazioni e anche una serie di referenze, quindi cercherò di darvi un'idea di come le aziende utilizzano nella vita quotidiana di progettazione delle trasmissioni questo tipo di strumento. Viene utilizzato principalmente per la simulazione di oil splashing, quindi di sbattimento olio all'interno di trasmissioni, lubrificazione per sbattimento ma anche lubrificazione forzata. In diverse applicazioni, soprattutto quando si va a numero di giri elevati, quindi magari anche su trasmissioni di auto sportive piuttosto che auto per racing, si utilizza, si va a prelevare l'olio dal Samp, dalla coppa dell'olio per intenderci e tramite un sistema di ricircolo lo si va a reimmettere in punti particolari come possono essere il mashing degli ingranaggi piuttosto che i cuscinetti. Anche questa tipologia di lubrificazione può essere simulata all'interno del software ParticleWorks. Come dicevo prima si possono fare modelli complessivi della trasmissione ma anche modelli di dettaglio per andare a studiare un singolo componente come i cuscinetti trattando anche il grasso e poi il software permette molto facilmente di simulare condizioni particolari come sono quelle di braking, di accelerazione, quindi accelerazione in frenata ovviamente accelerazione anche positiva, cornering quindi in curva quando la macchina o l'oggetto di cui ci dobbiamo occupare si trova in condizione di curva o anche in condizioni di particolari inclinazioni. Ci sono alcune macchine come le macchine agricole, alcune macchine industriali il cui motore o la trasmissione devono lavorare anche in condizione di inclinazione fino a 30-35 gradi e anche qui la lubrificazione può essere compromessa proprio dall'inclinazione dell'oggetto. Non vi farò vedere come si mette in piedi un modello ma giusto per darvi un'idea ancora di come si confronta con i metodi convenzionali. In un metodo convenzionale io dovrei andare a costruire la griglia di calcolo, prima di tutto anzi dovrei andare a estrarre il volume fluido e costruire la griglia di calcolo. Questi due passi che per geometrie complesse sono dispendiosi in termini di tempo scompaiono totalmente. Il software legge il CAD, le parti solide del CAD così come voi le costruite, così come il progettista le disegna dentro il CAD e da questo si parte immediatamente a settare il modello. Dopodiché la simulazione ha dei tempi ridotti rispetto ai metodi tradizionali per una serie di motivi legati al metodo matematico impiegato ma anche grazie all'utilizzo di GPU, di accelerazione del calcolo mediante GPU, schede grafiche per il calcolo scientifico. Inizio a darvi una carrellata di esempi per farvi capire come è nata questa applicazione presso Engine Soft. Tre anni fa Comery Industries, un'azienda italiana che si occupa di trasmissioni nell'ambito agricolo ma anche minerario, macchine, movimento terra e wind, ci chiede di validare, di costruire un modello perché il loro modo di lavorare fino a tre anni fa era questo, costruzione di prototipi, validazione della lubrificazione e della dissipazione del calore puramente mediante prove. Il problema è che queste prove sono lunghe, sono dispendiose e vengono fatte sempre a posteriori, cioè si disegna, si va in laboratorio e si verifica se il sistema funziona. Se il sistema non funziona bisogna tornare indietro, fare delle modifiche basate sull'esperienza o sull'intuizione e ritornare in laboratorio. Comery Industries voleva tagliare il tempo di sviluppo andando a costruire un modello che fosse in grado di predire il comportamento dell'olio all'interno della trasmissione in modo tale che durante il periodo di sviluppo virtualmente mediante il software potessero essere confrontate 5-6 diverse configurazioni della macchina, design della macchina per selezionare il migliore. Inoltre il prototipo virtuale serviva anche per verificare eventuali problemi come quello che vedete qua, l'olio non deve entrare nel pipe di venting, nel pipe di ventilazione della macchina. Questo era un comportamento che è stato predetto dal modello prima che venisse costruito il prototipo che è stato verificato poi in fase di prototipazione reale e grazie al modello si è capito come eliminare questo problema. Quindi il primo modello è stato validato andando a visualizzare il film d'olio e la quantità di olio che andava a lubrificare i cuscinetti e da qui poi Comery Industries ha iniziato a sviluppare una metodologia che gli ha permesso di ridurre i tempi di sviluppo andando a simulare la trasmissione prima di costruire qualsiasi prototipo. Il tempo di simulazione, cosa fondamentale per questa simulazione fatta nel 2016 è stata di tre giorni. Oggi questa stessa simulazione potrebbe essere fatta, viene fatta in circa un giorno, grazie al miglioramento sia del software sia all'incremento della potenza di calcolo. Vi mostro un altro caso molto interessante di Comery Industries perché permette di dare visibilità anche di quanto accurati possono essere i risultati di una simulazione di questo tipo. Comery Industries nel proseguo del suo lavoro, questo è un lavoro che ha presentato anche alla nostra conferenza due anni fa, l'anno scorso, quindi è materiale pubblico che potete scaricare dal sito della CAE Conference, ha presentato la validazione di un modello Particle Works per lo studio di questa gearbox che accoppia un motore elettrico ad una sale. La particolarità di questo oggetto è che deve lavorare su un range di funzionamento molto ampio, da basso numero di giri fino ad alto numero di giri, 6.000 RPM, deve lavorare sia in senso orario che anti-orario e deve lavorare sia in orizzontale che in verticale, quindi diverse posizioni di lavoro. L'obiettivo dello studio era predire il comportamento della macchina, garantire la lubrificazione dei cuscinetti in tutte le condizioni operative, i cuscinetti critici sono ovviamente quelli in alto, che stanno lontani dall'olio e cercare di minimizzare il livello dell'olio e quindi le perdite di potenza. Comer Industries ha sviluppato il modello, che è quello che vedete qua, come dicevo i cuscinetti critici sono quelli superiori, cioè che stanno lontano da dove l'olio è inizialmente e quindi si sono focalizzati su quelli che qui vedete chiamati bearing 1, 2, 3 e 4, che sono quelli dell'asse di input e idler e sono andate a fare 6 simulazioni, qui vedete la temperatura e i dati olio, sono andate a fare 6 simulazioni che corrispondevano poi ai casi di test in laboratorio. Le 6 simulazioni corrispondono appunto a basso numero di giri, orario e anti-orario, numero di giri intermedio, 2500 rpm, orario e anti-orario, elevato numero di giri e sono andate a verificare per ognuna di queste condizioni la lubrificazione dei cuscinetti. Come hanno fatto? Hanno adottato la stessa tecnica che viene adottata in laboratorio. In laboratorio viene fatto una cosiddetta una scatola trasparente che è del tutto identica all'oggetto reale, ha solamente un materiale diverso trasparente per il casing e le persone in laboratorio hanno una scala di lubrificazione che va da 1 a 4, che corrisponde a 1 scarsa lubrificazione e 4 ottima lubrificazione. Quello che vedete qua è la condizione intermedia a 2500 rpm, senso anti-orario. Per darvi un'idea di cosa significa 4 e 1, questo livello di lubrificazione, questa quantità di olio corrisponde a 4, ottima lubrificazione, 1 invece è quello che vedete qua, dove il cuscinetto è secco. Ovviamente questa condizione è quella ideale, questa è quella da evitare. Adesso vi faccio vedere il modello nella stessa identica condizione operativa e vedete anche qua che il cuscinetto intermedio ha un'ottima quantità di olio che corrisponde appunto a 4, mentre il cuscinetto superiore ha un numero molto molto ridotto di particelle che corrisponde appunto a 1. Comeri Industrisi è andato a fare questo lavoro di confronto tra il caso reale in laboratorio e il modello virtuale per ogni condizione operativa. Qui vedete numero di giri basso, orario e anti-orario, qui vedete i quattro cuscinetti, 1, 2, 3 e 4 e vedete sempre lo stesso numero, il che significa che la simulazione e il test di laboratorio danno le stesse indicazioni, la stessa scala di lubrificazione. Questo è il caso che stiamo vedendo qua, dove appunto c'è un cuscinetto, quello superiore, che non ha lubrificazione per niente e quest'altro invece che è molto ben lubrificato. Non ci sono problemi ad alto numero di giri, quindi questa tabella mostra come Comeri Industries è stata in grado di validare il modello, di predire prima della costruzione del prototipo reale e di individuare un caso critico e poi di porre rimedio a questo caso critico andando ad apportare delle modifiche progettuali. Questo è lo scopo per cui viene utilizzato il software. Vi faccio altri esempi giusto per darvi qualche altro riferimento. Questa è un'azienda inglese, Yuland Engineering, che lavora principalmente nel settore motorsport, lavora per trasmissioni nell'ambito Formula E, le MAN, auto da rally, ma anche auto, diciamo, da strada di elevata potenza, quindi si trova spesso a dover lubrificare per congetti d'olio che vanno a andare direttamente sul mashing o sui cuscinetti. Questo è quello che hanno scritto e che hanno presentato ad una conferenza recentemente. Hanno iniziato ad utilizzare Particle Works perché hanno capito che c'era spazio per migliorare, sia la lubrificazione ma anche la dissipazione del calore e la vita dell'ingranaggio e si sono focalizzati su due temi specifici. Il primo è la lubrificazione del singolo ingranaggio, della coppia di ingranaggi, andando anche a sfruttare le tecniche di printing 3D. Questo gli permette di definire la geometria degli ugelli che immettono olio in maniera particolare, possono costruire qualsiasi forma. Questa flessibilità sulla forma degli ugelli dà spazio anche all'ottimizzazione del getto d'olio e quindi sono andati a confrontare diverse geometrie di questo getto che butta olio sull'ingranaggio con tre obiettivi. Il primo è ridurre la temperatura, ridurre la temperatura significa ridurre il coefficiente di scambio termico dovuto all'olio sull'ingranaggio. Il secondo è garantire la lubrificazione con meno olio, quindi con una portata di olio ridotta e quindi anche decrescere le perdite di potenza e infine aumentare la vita del componente grazie a temperature più ridotte e grazie ad una migliore lubrificazione. Quindi in questo caso con una semplice modifica del nozzle che immette olio sono riusciti sia a garantire una maggiore diffusione dell'olio sia ad aumentare la velocità dell'olio e quindi aumentare lo scambio termico e allo stesso tempo sono andati a ridurre le perdite per churning andando a cambiare la direzione dell'olio e il suo impatto sull'ingranaggio. Questo è il primo ambito, quindi studio dettagliato di un getto. Il secondo ambito invece è lo studio completo di una trasmissione con particolare attenzione alla posizionamento della pompa a olio. La pompa preleva olio dal SAMP, dalla trasmissione per poi reimmetterlo. Si parla di macchine sportive, quindi macchine soggette ad accelerazioni molto violente, in curva o in frenata e la pompa deve garantire l'assorbimento, il prelievo di olio e il circolo di olio in ogni condizione, anche quando la macchina frena, quando accelera, quando in curva. Questo grafico mostra il livello minimo di portata che deve essere garantito dalla pompa. Iuland è andata a simulare diverse condizioni di frenata e di curva ed è andata a posizionare la pompa nella posizione migliore all'interno della trasmissione, in modo tale che la curva reale di prelievo dell'olio da parte della pompa fosse sempre sopra il valore minimo da garantire e questo è stato fatto appunto studiando accuratamente dove va a finire l'olio durante le fasi di accelerazione. Quindi modelli locali per lo studio della singola emissione e modelli globali per il posizionamento della pompa. Il software è in grado di dare informazioni qualitative come per esempio appunto la distribuzione di olio ma anche quantitative in termini di portate di olio in aree specifiche, volumi di olio per esempio nella zona cuscinetti ma anche le cosiddette churning losses, cioè la coppia esercitata dall'olio sull'ingranaggio, sugli ingranaggi ed è in grado anche di fornire, questo grafico mostra per esempio l'andamento nel tempo della torque applicato su questo ingranaggio, è anche in grado di fornire la quantità di torque dovuta alla viscosità, quindi alle proprietà dell'olio e alla temperatura dell'olio piuttosto che alla pressione esercitata dall'olio, quindi dà delle informazioni qualitative ma anche quantitative piuttosto dettagliate. Quindi per riassumere distribuzione dell'olio, visualizzazione dei flussi, calcolo dei volumi di olio per esempio nella zona cuscinetti, calcolo delle portate per esempio che vanno ad alimentare e a lubrificare i cuscinetti, calcolo delle churning losses ma anche calcolo dei coefficienti di scambio termico sulle pareti della trasmissione, dello scambio termico e della temperatura. Riguardo il tema cuscinetti e poi arrivo anche sul tema dello scambio termico, vi mostro anche questa applicazione di Marelli Motori, vi invito anche alla CAI Conference perché Marelli Motori presenterà questa applicazione che è appunto uno studio dell'effetto di pompaggio dell'olio da parte di un cuscinetto che deve appunto pompare l'olio dalla parte inferiore verso la parte superiore per andare a lubrificare la schiera dei cuscinetti che sta lontano dall'olio. Dicevo dal punto di vista dello scambio termico utilizzo un altro esempio perché è piuttosto rappresentativo e riguarda lo studio sempre mediante questi metodi fluidodinamici a particelle della ottimizzazione termica di motori elettrici ma il concetto, la metodologia è identica, abbiamo un motore elettrico, abbiamo una serie di emissioni di olio che devono andare a raffreddare gli avvolgimenti di questo motore elettrico, tra l'altro questo motore elettrico è un motore elettrico accoppiato ad una trasmissione, cioè preleva l'olio dalla trasmissione per raffreddare il motore elettrico e questa è una tendenza che nell'automotive sta sempre più diffondendosi. In questo caso quello che è stato fatto con Drive System Design è andare a simulare mediante ParticleWorks, mediante la fluidodinamica particelle, la distribuzione dell'olio nel sistema, sono state calcolate i coefficienti di scambio termico sulle pareti del sistema e questi coefficienti di scambio termico sono stati poi trasferiti ad ANSIS per la parte di analisi della temperatura e stress sul componente e nell'arco di una settimana di calcolo sono state confrontate tre diverse soluzioni progettuali ed è stata selezionata la soluzione che garantiva la temperatura minima, quindi che garantiva la massima efficienza di raffreddamento del sistema. Vi lascio con un altro paio di riferimenti, lascio spazio agli altri se avete interesse a capire meglio come funziona questo software e ad avere altri riferimenti abbiamo del materiale pubblico, degli articoli scientifici e presentati a conferenze da parte di Dana con un confronto tra dati di laboratorio, distribuzione olio su ingranaggi da laboratorio in simulazione, abbiamo del materiale pubblico dalla CAI Conference da GKN Driveline, quindi diciamo abbiamo tutta una serie di casi di studio reali, industriali che possiamo condividere e discutere con voi. Vi ringrazio e sono disponibile poi per domande.